Tra Bitonto e Fidelisandria vince la noia ma vincono anche i cartellini. All'atitare è il gioco, è lo spettacolo, è il pareggio. Alla fine accontenta poco entrambe le squadre. Il protagonista diventa a suo malgrado il direttore di gare, il signor Morello di Tivoli, non solo per l'espulsione dopo neanche quattro minuti di strambelli, ma anche per molteplici ammunizioni e tante decisioni spesso apparserrate in entrambi i fronti. Le formazioni iniziali, De Candia conferma in blocco la squadra che ha vinto il derby contro il Barletta, con l'unica novità l'Auriola al posto di Padalino, non al meglio della condizione. Sassanelli, Strambelli e Scaringelle, il trio d'attacco nel 3-4-3. Sempre una difesa a tre, quella del duomo desto Santo Ruvo per un Bitonto in cui il tandem d'attacco e figliolia tedesco, l'ex Clemente a dettare i tempi di gioco. Inizio subito macchiato dall'espulsione di Strambelli dopo neanche quattro minuti, una presunta manata su aprile che per il direttore di gara è passibile del rosso diretto, inutili le proteste andriesi. In una partita decisamente corretta saranno alla fine sette le ammunizioni, sicuramente molte di più delle occasioni costruite da entrambe le formazioni. La Fidelis si riorganizza con un 3-4-2 e Giambuzzi a provarci subito sul calcio di punizione. Diamè non preciso, si salva in due tempi, da segnalare al venticinquesimo una rete siglata con l'aiuto di una mano da parte di Tedesco, poi ammunito, e il fallo laterale battuto da Giambuzzi verso l'area di rigore del Bitonto, con Diamè che non controlla e la palla finisce sul palo senza che Sassanelli arrivi sul pallone. Proteste ospiti nel finale per un presunto tocco con un braccio in aria, di Stasi su cross da destra, tutto regolare per il direttore di gara. Anaclerio alla mezz'ora ci prova di sinistro palla al lato, il primo tempo finisce qui. Prova subito ad alzare il baricentro nella ripresa del Bitonto, con Loris Palazzo in campo al posto di aprile. La squadra di casa costruisce qualche buona opportunità con Anaclerio prima, tiro dal limite sul fondo, e con la sforbiciata di Tedesco poi, palla tra le braccia di Fratti. Nuove proteste, Fidelis al quarto d'ora di gioco, con Scaringella cinturato in aria da Fioretti, anche in questo caso tutto regolare per il direttore di gara. Preme il Bitonto con lo stesso Fioretti che dall'altro lato si ritrova tu per tu con Fratti, bravo a deviare il tiro dell'esterno di casa. Ancora cambia, decandia, sceglie un 4-4-1 con Cecere a supporto di Bursio, ed è proprio il classe 2005 appena entrato a sfiorare il 7 con un tiro dal limite, la palla sul fondo davvero di poco. La Fidelis resta sempre molto corte, Palazzo ha solo con la testa il pallone buono nel finale, attento ancora Fratti, dall'altro lato invece Bottali con non centrare lo specchio di poco dai 25 metri, e anche la parola fine però sul match. 0-0 il risultato finale, un punto che serve poco alla corsa salvezza del Bitonto, costretto ancora a giocare a bitetto in un campo decisamente complicato, un punto che serve poco alla Fidelis per la lotta al primato, ma che quantomeno consente di tornare a far punti in trasferta, mantenendo la porta inviolata in vista della sfida interna contro il Matera. Per il Bitonto invece, gara verità per la salvezza. Palma Campagna.